Buonasera, sono Mauro Pignatiello, sono il nuovo responsabile del settore giovanile dell'FBC Saronno, farò parte della Juniors come allenatore, responsabile del settore agonistico dei 2001 fine 2004. È un progetto molto importante che ho accettato, il Saronno Calcio, venire qui è qualcosa di importante, sono orgoglioso e felice di essere qua, far parte di questa famiglia e credere nel progetto che col Presidente vogliamo costruire. Oggi ci troviamo qui al centro Matteotti dove si allena il Saronno Calcio, siamo qui per uno stage dei 2001 e 2002 per vedere di capire ancora qualche giocatore se potrà far parte della nostra famiglia. Adesso faranno una partitella e io sono qua per visionare qualche giocatore. Allora, come Juniors diciamo che ho quasi chiuso la squadra, la squadra è completa, siamo una rosa di 18-19 giocatori, giocatori del 99-2000 e 4-5 fuori quota del 98 e sono contento di averli scelti. in giro di 20 giorni sono riuscito a fare la squadra, sono arrivati giocatori importanti con stimoli importanti per cercare di far bene una buona stagione e per cercare di mettermi in difficoltà a me ma soprattutto per cercare di andare su in prima squadra. L'obiettivo è questo, i 99 devono cercare di far bene per poi avere il trampolino e per arrivare su. I nostri giocatori confermati del Saronno e i 98, 98 scusi, sono 4-5 giocatori che ho confermato e sono molto contento che loro hanno scelto di rimanere qua con me a Saronno. Posso fare qualche nome, Adamo, centrale difensivo, Banfi che è una punta, Quici che è un esterno e poi sono arrivati Galli, un centrocampista centrale dallo Sporting Cesate, dovrebbe arrivare e il portiere Baron da Nerviano, 98. Per quanto riguarda invece il 99 sta arrivando un gruppo di Cesate composto molto volentemente, mancano ancora due o tre dettagli, da Saldarini che è un terzino destro, Gallan che è un terzino sinistro, Ceriani che è un centrale difensivo, Galli come ho detto prima è un centrocampista centrale, Ferraro è una mezza punta punta e Opedisano un esterno alto a sinistra. Da Solaro dovrebbero arrivare Murari che è un centrocampista centrale e Zoni che è una punta. Dovrebbe arrivare anche dal Fenegrò piccolo Simone e poi ci sono altri 4-5 giocatori che stiamo valutando. Comunque diciamo che la rosa dovrebbe essere completata. Allora l'anno scorso la Unionare S regionale del Saronno ha fatto un campionato mediocre, si sono salvati all'ultima domenica e hanno fatto abbastanza bene. L'obiettivo mio, quello di quest'anno, è quello di cercare di far bene, cercare di fare un campionato tranquillo ma soprattutto di valorizzare i giovani in prospettiva prima squadra. Questo è l'obiettivo che mi pongo.